Novità importanti per la Virtus Volley Fano, a partire dall'avvicendamento alla presidenza tra Giacomo Iannelli ed Emilio Ceneri, lì già alla guida della Pavlucrezia. Ora la società virtussina che ha fatto la storia della città di Fano è pronta ad affrontare con una squadra da alta classifica il nuovo campionato di Serie A3 che partirà ufficialmente il prossimo 2 ottobre. Da metà agosto invece prenderà il via la preparazione. Il mercato è sostanzialmente chiuso, il DS Brunetti come sempre ha fatto un eccellente lavoro, abbiamo riconfermato il coach Castellano che tra l'altro ha dato una svolta alla squadra veramente in tempi rapidissimi. Abbiamo la sensazione che quest'anno ci potremmo divertire tanto al palazzino. Nel dettaglio chi entra e chi esce? Ma intanto abbiamo riconfermato Nicola Zonta che ha fatto molto bene l'anno scorso soprattutto nella seconda parte del campionato, abbiamo riconfermato Gozzo, c'è un ritorno graditissimo che è lo schiacciatore Stefano Ferri, un giovane di grandi prospettive. E' un acquisto importante, il bomber, abbiamo preso, abbiamo portato Fano, Christoph Marx che è stato in passato il miglior realizzatore in Serie A2. Quindi ci aspettiamo davvero tantissimi punti. Nel frattempo la Virtus Volley punta anche sulle nuove leve con un lavoro ad hoc e una grande attenzione rivolta ai più giovani sia per la pallavolo maschile che femminile. In campo, tecnici di alto spessore e una collaborazione fondamentale tra le società sportive per essere sempre più competitivi a livello nazionale. Lei pensi che in questo momento noi con queste collaborazioni muoviamo qualcosa come mille tra atleti e atlete, quindi coinvolgiamo 800-900 famiglie in questa nostra attività. Gli spazi non sono mai sufficienti naturalmente, quindi noi cerchiamo di adeguarci. È chiaro che è stato fatto un bellissimo lavoro qui a Fano con la nuova struttura, quella appunto dietro la trave, che ovviamente ci permette di dare molto sfogo alle nostre attività, soprattutto sul giovanile. Il palazzetto, che è il nostro contenitore della prima squadra, comincia a sentire un pochino il problema dell'età, pur essendo assolutamente adeguato in questo momento delle circostanze, è chiaro che Fano, secondo me, merita un palazzetto adeguato perché potrebbe diventare veramente la casa del volley e questa è la città del volley. C'è un messaggio, un appello che vuole lanciare agli appassionati di palazzetto? Ma intanto l'obiettivo è di riempire il palazzetto, sempre. Questo per noi diventa fondamentale, si crea entusiasmo, si crea entusiasmo attorno alla squadra, si crea entusiasmo attorno a coloro che magari possono aiutare la squadra a diventare sempre più forte e strutturata. E quindi parlo delle aziende, parlo del territorio sostanzialmente. Noi ce la metteremo tutta dal punto di vista tecnico-organizzativo per cercare di essere sempre competitivi. Noi chiediamo davvero un grande supporto, un grande supporto fin dal giorno 1 perché, ripeto, quest'anno possiamo divertirci tanto e questo porterà poi conseguentemente ad un vantaggio a tutto il movimento. Grazie a tutti.